Ehi 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 prima di cominciare con il video mi raccomando se volete vedere altri momenti simili a questi non dovete fare altro che seguirmi live su twitch e tutti i giorni dalle ore 17 Trovate il link qui sotto in descrizione Inoltre ragazzi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione in su perché se no mi arrabbio Ora però ragazzi è arrivato il momento di passare al video io vi auguro una buona visione Ma il cimitero è vicino al mio posto No va il cimitero No va il cimitero No ti gioco e ti ammazzo Vado alla villa Cos'è la villa? E' la mia villa dell'isola Non mi contestano No c'è una l'isola Gigi sono contestato ovunque Gigi perso il game Ragazzi ma che loot Ciao Jacopo Ragazzi ma che loot Dammi un pompa Dammi un pompa per favore Ragazzi No ragazzi vado qua in solo I don't fucking care Honestly Sono da me Bro sei champion More like dog shit Anonimo ha ucciso Marvin Sono io Ora mi nutto il benzinaio No no dio Sei tu Fai schifo ti giuro Da dietro No ora mi sparano da dietro ti giuro Mi hai fatto usare un mini Mi spara no Dasta dai Martina Sono mazze Li devo farmare Sono dietro di te che farmo Non venire qua Sono teamando questi Lo ritroviamo questo bulb Eccolo qua Eccolo qua E ne ho proprio andato a fare in più Anonimo Sì è un anonimo che ha ucciso Sono io Sono sexy Mi chiamano smetti di Riuscire a uccidere sempre tutti Poi ci sarò io Dai ma fai schifo 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 io Vado aiutare Martina Non si sa mai che sia in difficoltà Non si sa mai che sia in difficoltà Verabbè di sul mic Vabbè l'ha ucciso Guardami mentre ti muovi Baby sei quando fai così Porca Aspetta Ah è vero Si è buggato Si è buggato a caso Mi ha fatto questo qua HS con la pistoletta A una distanza bassa Ora si è messo bene Mi vuole busciare Grazie grazie Mi chiediamo se vuole Vado per la montagna del cuore Ah non la possiamo Mi hanno distrutto da dietro Vado via Quanto squaglia la gente Aspetta ma Mortona L'altro ce l'hai sempre Vi addosso Oh si ma sono tranquilla Morto Non si ma sono Mi ha diviso Mi ha diviso Mi ha diviso Mi ha rubato Si No, perché? No, ragazzi, me l'ho stilato No, no Sto per pusharti, te lo giuro su Dio No, 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 ragazzi No, ragazzi No, ragazzi Arrivati, pusha Ah, questo vuole che armi proprio Scappi, bro Qua c'è un altro, un solo Vabbè, va Ti vuole che feri, dai Non stava almeno in mano, ragazzi Mangia di sto gran c***o No, la pentina Una bad è ammazzata Non è una vera bad è che sei morta O semplicemente sono i la bad Ultima rotation con la macchina, ragazzi Non c'è nessuno adesso Sei tu Non so Anche se sei tu, no, non sei tu Ok, qui c'è un altro No, non voglio questo Oddio, l'ho distrutto questo qua Comunque se ragazzi sono un fenomeno Posso dirlo C'è Cristo di Dio la Madonna, ragazzi Ma quella è Martina Sei davanti a me Guarda che carino Questo qua potrei ammazzare addirittura Stai bruciando uno? Ok Guarda che c'è una macchina che si colazza Che segue uno Guarda che stiamo per andare in stage Guarda un altro Aiardo, ho paura Guarda perché non gli uccida tutti, Martina Sono undici kilzia maia sei tu ma hai sparato però non si vede potrei spararmi ma non c'è questo sei tu 34 colori da là vabbè ci sta eh non lasciarmi uno per farmi dare il 2% eh si è distrutto questo me lo faccio è vero siamo uno vi uno che cosa vuoi fare sono morta dai una roba carina per il video no no checca no checca fuori safe sono andata ma volevo fare una cosa simpatica per un video figo eh ma sono sono morta fuori safe ho lanciato l'impulso e sono andata via vabbè oh vedi esotico 17% sinceramente me la casa abbastanza sincera god game ragazzi ciao